ciao ragazzi benvenuti in questo video oggi andremo a fare il garsen questo sentiero parte da sopra lugo di grezzana ed è uno dei tantissimi sentieri delle teste di marmo inizio con questo passaggino in discesa non sono riuscita a fare la curva il sentiero inizia con questo pezzo abbastanza tecnico anche se con sassi tutti stabili cioè non ha molti sassi mossi quindi questo consente di fare il sentiero in un modo abbastanza veloce un po' di qui c'è una curva, senza sponda, senza niente vive che questo è un sentiero diciamo abbastanza naturale qui altro tornantino fermo un attimo che sta passando un camion non vorrei che ci fosse troppo rumore nel video una volta sentavo dritti mentre adesso qua c'è questa curva che è la variante Garce e Molin qua c'è un bel droppone bello bello, si fa, si fa sono riuscito a cadere da fermo è veramente bello, sto troppo troppone io mi sa che lo rifaccio ho un ramo e una scarpa lo rifatto un'altra volta perché adesso non avevo lasciato giù tutte le camere e allora posso continuare a fare il Garce ho rischiato di perdere il controllo con la curva qui c'è un pazzo di risalita senza telescopico non è bellissimo ok direi che il Garce l'è finito ciao ragazzi questo video è finito spero che vi sia piaciuto io voglio ringraziare le teste di marmo che hanno creato questi bellissimi sentieri e niente se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e lasciate un commento che mi fa sempre piacere e noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video ciao ciao